Ciao a tutti e benvenuti o bentornati su Magis of Protoss. Negli ultimi giorni c'è stato un grossissimo spike, economicamente parlando, di una carta, Quest in Druid, per quanto riguarda il Modern in particolare. C'è stato un risultato da parte di un giocatore notissimo a tutti voi, Andrea Mangucci, con un mazzo che giocava questa carta, ed effettivamente si stanno provando diversi mazzi che l'hanno inserita e cercano di trarre vantaggio da questa carta di Eldraine. Allora, innanzitutto andremo ad analizzare questa cartina, cosa fa e soprattutto il motivo per cui è stata inserita in questi mazzi. Andremo a vedere quali sono i mazzi che l'hanno integrata e se effettivamente, cosa più importante, è una carta che potrebbe avere una permanenza lunga in Modern oppure solamente un momento di hype e di spike iniziale, ma poi sarà una carta che non verrà giocata con costanza da tanti mazzi. Lo scopriremo insieme in questo video, quindi rimanete con noi fino alla fine. Allora, prima di tutto ovviamente dobbiamo parlare della carta in sé, parliamo di una carta con avventura, quindi da un lato avremo un effetto istantaneo, Sick the Beast con costo 2, rosso, avventura, che dice esilia le prime due carte del tuo Grimorio, fino alla tua prossima end step potrai giocarle. Dall'altro invece abbiamo un 1-1 che quando castiamo una spell che sia bianca, blu, nera o rossa, ci farà mettere un segnalino più 1-1 su quest'indruid. Quindi di base è una carta perfetta per le spell, per essere una spell, in quanto ci farà fare vantaggio, ma allo stesso tempo è anche una creatura, che può diventare abbastanza grossa in tempi relativamente brevi. Il primo mazzo quindi che l'ha inserita, uno di quelli che tra l'altro ha fatto anche un risultato decente negli ultimi eventi, è proprio Temur Prowess. Temur Prowess è un mazzo che si basa su tutta una serie di creaturine che traggono vantaggio dal grande numero di magie lanciate durante il turno, quindi abbiamo tutte carte con costo basso, la bolla, mutagenic, l'avadart, bolt, preordene, expressive iteration, bridge che ci permette di riciclarle dal cibitero e altre carte con costo di mana veramente basso. Scusatemi. Perché quest'indurid si inserisce molto bene? Per due motivi principali. Il primo è appunto la parte istantanea, quindi è una spell che a sua volta esiglia le due carte dalla cima e ci permette di castarle. Se noi abbiamo tantissime carte con costo di mana basso, ovviamente sarà molto probabile che le casteremo e quindi ci fa fare quasi un pesco due o comunque spesso e volentieri un pesco due se lanciato nel modo giusto. Dall'altro lato invece abbiamo un 1-1 che si gonfia ogni spell che lanciamo, quindi praticamente ha un prodezza permanente, diciamo così, con solamente le spell colorate di quei tipi di colori. Quindi un mazzo perfetto per questa carta e una situazione nella quale non vedo perché non dovrebbe essere giocata. Quindi nel caso di Krul, Temur, Prowess, 100% da inserire ci sta che l'abbiano provata e ci sta che rimanga in modder in questo mazzo. Bisogna dire però che questo non è di sicuro un tier 1, quindi potrebbe essere che il mazzo sparisca da solo a breve tempo. I mazzi invece un po' più interessanti che hanno provato a inserirla sono proprio dei tier. Uno di questi è Murted. Murted è un mazzo classico del modder che si gioca ormai da tantissimo tempo che va a integrare insomma tutte le bombe IZ possibili e immaginabili. Abbiamo i Ragavan, abbiamo le Channeler, abbiamo Murted, appunto questo ciccione del Vante con Volare, una serie di counter di Remu Valvari per gestire il risorso dell'avversario e delle carte da vantaggio come Expressivity Ration, Preordain e simili per fare vantaggio carte in mano. In questo contesto quindi si inserisce molto bene una carta che fa fare vantaggio con un lato istantaneo e allo stesso tempo andrebbe ad aggiungere un Bittante, una creatura, ad un mazzo che di base ha sempre un po' sofferto questo problema, cioè la carenza di creature. Purtroppo un mazzo che vuole giocare tante spell ma allo stesso tempo vorrebbe avere delle creature per mettere una race importante. Non è male effettivamente come idea quella di inserire una carta che faccia entrambe le cose, quindi da un lato sia un istantaneo e dall'altro sia una creatura, bisogna vedere se effettivamente ne vale la pena. Bisogna aggiungere un colore, quindi da Izz si passerebbe a Temur e è vero però che si potrebbe tranquillamente durante l'arco della partita lanciare solamente la parte da istantaneo che di base farà un po' un simile Expressivity Ration, no? Ci va a fare un effetto molto simile anziché aggiungere la carta in mano e una castarla, ce la farà castare entrambe, però più o meno stiamo parlando di un effetto del genere. Un po' meno male intensi perché non ha il blu, carta a mio parere molto molto interessante, non è detto che venga inserito in Murted di Tifold, quindi non è assolutamente detto, però una cosa è certa, qualcuno lo sta provando ed effettivamente potrebbe essere una carta che ha davvero del grosso potenziale, quindi vedremo come si comporterà in Modern e vedremo se effettivamente anche in Murted rimarrà. Il mio pensiero è no, non nel lungo termine, però magari mi sbaglio e sarà una carta mainstream in tutti i Murted. Io penso che verrà giocata in qualche lista ma che continuerà a esisterà anche la lista IZ senza lo splash di verde per questa carta. Ultimo ma non ultimo è il mazzo che attualmente sembra essere il più forte del formato, ovvero un po' diciamo scam nelle varie versioni. Adesso questa forse è una versione un po' particolare perché appunto diventa June andando ad aggiungere questa carta. Perché è interessante? Allora innanzitutto può essere un picciante interessantissimo per Uri. Poi è anche in questo caso una carta da vantaggio che magari ci fa vedere le prime due e se per queste prime due c'è un elementale e noi possiamo accassarlo, non è davvero niente male. Quindi un ottimo motore di vantaggio soprattutto con tante spell con costo di mana vasto e che si riescono a accassare facilmente dalla cima. Dall'altro lato anche in questo caso avremo un bitante in più che si bomba molto facilmente dato che il resto del mazzo sarà interamente rozzo e nero. Quindi praticamente ogni spell che lanceremo ci farà mettere un segnalino più uno più uno. Quindi abbiamo una creatura che diventa grossa, un motore di vantaggio, la carta effettivamente sembra interessante anche in questo mazzo. Tra l'altro con vari effetti di blink eccetera diventa interessante perché nello stesso turno facciamo più spell colorate perché magari facciamo, che ne so, Uri, poi lo blinchiamo con il def per dire o qualcosa del genere e quindi praticamente avremo fatto con costo 1 mana già due spell che metteranno due segnalini e si gonfia davvero tantissimo. Quindi molto interessante anche il lato creatura. In questo mazzo sinceramente trovo che sia un pochino forzato l'inserimento di questo druido però allo stesso tempo è giusto che venga provato perché potrebbe essere una carta interessante. Conclusione, mi sembra che attualmente sia più un tentativo di test, di prova dovuto a dei risultati ottimi raggiunti da un mazzo ma non una certezza. Quindi a parte Temur tra Prowess, scusatemi mi sono impappinato, negli altri mazzi non vedo una certezza di questa carta. Mi aspetto che la carta rimanga comunque con un prezzo più alto di quello che aveva un po' di tempo fa anche se sono abbastanza sicuro non sarà una carta da 4 peri in tutti i mazzi, Modder, Follia, cose di questo tipo. Però una buona carta che forse è stata sottovalutata all'uscita e che adesso potrebbe essere interessante. In generale non consiglierei comunque di avventarvi adesso subito a comprare 4 copie di questo druido a 10€ l'una perché potrebbe non mantenere neanche il prezzo. Quindi un periodo molto molto transitorio che ci lascerà delle risposte solamente più avanti. Detto ciò, vi ringrazio per l'attenzione, sono molto curioso di sapere cosa ne pensate voi, quindi scrivetemi nei commenti cosa pensate della carta, perché deve essere giocata, in che mazzi, insomma tutti i vostri pareri e vi risponderò nel più breve tempo possibile. Vi ringrazio per l'attenzione e vi rimando alle prossime volte e ai prossimi video. Ciao a tutti e alla prossima!